Se ci si ferma a dei modelli tradizionali che hanno magari portato dei benefici alla propria azienda, sarà difficile poi poter aggredire nuovi mercati e fare delle nuove attività, portare innovazione alla propria azienda. Credo che sia necessario riguardare i propri modelli, confrontarsi con altre aziende del proprio settore e capire quali sono le necessità dei consumatori e comunque dei mercati emergenti. Poi bisogna vedere naturalmente qual è l'attività che si svolge, non tutti i modelli possono andare bene per tutte le attività. Personalmente mi sono adattato alle esigenze dei vari mercati, purtroppo mi sono adattato anche alle esigenze della crisi che ha colpito i vari mercati. Io ho lavorato molto nel mercato dell'edilizia e quindi sappiamo bene che c'è stato un crollo verticale dei consumi dei materiali per l'edilizia, delle costruzioni. Quindi mi sono adattato in un determinato momento a risolvere le crisi aziendali, mi sono dovuto rimboccare le maniche e capire quali fossero le esigenze delle aziende nel momento della crisi, quindi riorganizzare la propria azienda e capire bene qual era il modello da seguire per poter rimanere in quel momento sul mercato. Grazie. 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 Grazie.